Il 600, un'epoca di contrasti. In questo video parleremo della società del 600 tra miseria e splendore, di povertà e decadenza economica in Spagna, Italia e Germania, di uno stato in rapido sviluppo economico e cioè della Repubblica d'Olanda e delle trasformazioni economiche dell'Inghilterra. La società del 600 tra miseria e splendore. Nel 600 si continuava a credere che la società fosse divisa in tre ordini o stati. Questi erano il clero e la nobiltà, che possedevano la maggior parte delle terre e godevano di molti privilegi, e il terzo stato, che comprendeva i borghesi e tutti quelli che per vivere dovevano lavorare. Ecco l'immagine satirica, in realtà questa è posteriore, del 700 che rappresenta i tre stati. Ovviamente il signor anziano piegato su se stesso che si sorregge sulla zappetta è un contadino, uno del terzo stato, mentre sopra le sua schiena, belli comodi, ci stanno il clero e la nobiltà. In questo secolo carestie, fame, epidemie e guerre peggiorarono le condizioni di vita della maggior parte della popolazione europea e portarono ad un generale calo demografico. Ecco un'immagine di un uomo di chiesa che si reca in visita al lazzaretto agli appestati. Povertà e decadenza economica in Spagna, Italia e Germania. Nella seconda metà del 500 la Spagna entrò in una grave crisi economica. L'oro giunto dalle colonie americane, anziché essere usato per sviluppare le attività del paese, era servito per pagare grano, armi e altre merci. Infatti le armi servivano per combattere le guerre. Anche l'Italia entrò in una fase di decadenza. Le merci di lusso da lei prodotte erano sempre meno richieste e il Mediterraneo cominciava a perdere la sua importanza commerciale. Le pesanti tasse imposte dagli spagnoli divennero insostenibili e scoppiarono così numerose rivolte popolari come quella di Napoli guidata da Masaniello. Eccolo qui. Dal 1618 al 1648 molti paesi europei, tra cui la Germania, furono coinvolti nella guerra dei trent'anni che contrappose le potenze cattoliche a quelle protestanti. E' stato l'ultimo grande conflitto religioso questo. Tra i protestanti ci stava, anche se la cattolica la Francia, anzi, più che cattolica, era sì, tollerante, permissiva. Dopoditto di Nantes. Ecco qui un'immagine dai campi di combattimento. La guerra dei trent'anni, gli schieramenti, avevamo da una parte le porze cattoliche che erano l'impero e la Spagna. Dall'altra parte i protestanti, dove c'era l'Inghilterra, la Francia, che ho detto che in realtà non era protestante, ma per motivi di opportunità politica stava contro la Spagna, che voleva indebolire. Poi avevamo i Paesi Bassi, l'Olanda, la Danimarca e la Svezia. Io ho messo Danimarca e Svezia tra i tanti paesi che hanno preso parte contro quelli dell'impero, perché sono stati protagonisti di due fasi del combattimento, che come dice il nome, è durato trent'anni e quindi ha avuto diversi periodi. E questa è la situazione dell'Europa dopo la fine del conflitto, la pace di Vesfalia del 1648. Quello che mi interessa riassumere qui è che uscì vincitore la Francia e anche l'Inghilterra. Mentre i principali sconfitti furono le forze imperiali, l'impero rimase frantumato in diverse parti, e la Spagna. Anche l'Italia, che era sotto la Spagna, uscì molto indebolita dal conflitto, sia perché furono dei soldati italiani, quelli che andarono a combattere e non tornarono a casa, sia perché la Spagna ci prosciugò ben a modo a livello di tasse. Uno stato in rapido sviluppo commerciale, la Repubblica d'Olanda. L'Olanda divenne la prima potenza marittima e commerciale del mondo. Nacquero le compagnie commerciali di navigazione che fondarono diverse colonie. Qua riporta quella dell'India orientale. Le trasformazioni economiche dell'Inghilterra. In Inghilterra le terre comuni vennero recintate e divennero proprietà privata. L'agricoltura se ne avvantaggiò e diventò più produttiva. Ecco un'immagine delle recinzioni. Nelle campagne si diffuse il lavoro svolto a casa propria, ma per conto di altri. Aumentò la produzione di carbone, di cui il paese era molto ricco. L'Inghilterra divenne una grande potenza commerciale, stabilì le sue prime sedi in India e fondò nuove colonie sulla costa atlantica dell'America del Nord. Questa è un'imbarcazione inglese pronta a salpare e questi invece sono i territori, quelli in rosa, conquistati gli inglesi nel Nord America. Quelli più a est, che si affaccia sull'Atlantico, cioè questi qua, sono stati il punto di partenza per la nascita degli Stati Uniti d'America e ancora oggi si chiamano New England. Invece questi qua oggi appartengono al Canada. Concludiamo con la mappa concettuale. Nel 600 la società era divisa in tre Stati, nobilità e clero erano quelli più agiati, mentre il terzo Stato era quello che pagava un po' per tutti. In economia ci furono gli Stati in crisi, come la Spagna, l'Italia, la Germania, cioè quelli che uscirono sconfitti dalla guerra dei Trent'anni, mentre vi fu la fioritura dell'economia olandese e di quella inglese.